buongiorno a tutti quest'oggi faremo un nuovissimo video dove giocheremo a world warriors of the universe qui ho già dei personaggi che aiutano di cui alcuni anche scritto ma anche come scp nicolas e clef 43 che è il nome del canale ok so faremo una battaglia sulla torre la heart a a a a a a a a a proprio forte sui necratte, ma no, dobbiamo approfittare che è vero che loro hanno dei problemi a quanto pare della notte, non vedono bello, lo so tipo 2, il contrario dei ministrelli sembrerebbe, no? e quindi durante la notte sembrano essere in hard times, e noi invece che siamo così esperti, dobbiamo approfittare, brava, brava, veterana, veterana, bisognerebbe però riuscire a trovare del carbonzio, perché con il carbonzio avremo molta più facilità, potremo avere delle torce, Steph sta sfruttando, sta sfruttando mia, guardalo che sporco, sta sfruttando, io faccio così, guarda, 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 guarda! mi ho fregato la roba hai visto hai visto sono cattivo sono crudele sono beh ma quando c'è una sfida in corso lo sai come faccio io eh non me la vado mica a dire e adesso siccome ho fatto il tempo a fare solo una barca mi porto avanti così attenzione Anna si non riguardare non riguardare per niente al mondo qui dobbiamo scendere qua guarda e dobbiamo trattare tutto per tutto sta a capire un affare più o meno verso la direzione che ci serve ok ottimo ottimo fantastico agli occhio artillo per il ferro brava allora prendilo io prendo questo ci basta solo per un piccone a testa probabilmente no no dici che non puoi prenderlo tutto ma perdiamo tempo Anna dobbiamo continuare dobbiamo andare perché rischiamo sempre ogni secondo che passa e sta caverna fa un giro strano no 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 non possiamo andare qua dobbiamo continuare di qua riesci a scavare anche tu hai delle torce mi riesci a piazzare delle torce così vedo bene dobbiamo riuscire ad andare avanti così dobbiamo cercare di essere il più veloce possibile però dovremmo cercare anche di scendere il problema è che dobbiamo farci piccoli di ferro per scendere la situazione è più difficile da imprevisto la barriera ce l'abbiamo a pochi passi Anna saranno 4 o 5 blocchi tu continua a scavare un blocco avanti un blocco sopra continua così Anna continua così ti prego ce la stai facendo vedi la terra ok continua hai la pala allora ok vai vai ancora un po' continua a scavare Anna continua ti prego continua ci manca poco ci manca poco abbiamo la barriera ok ce l'abbiamo fatta abbiamo preso un po' di ferro fortunatamente sono riuscito anche a riprendere il ferro che tu avevi messo nella fornaccia però sciogliano è piccidissimo Anna non vediamo qua non vediamo qua infatti ce la rubano sicuramente Anna se si avvicina veni picchiarli Anna mi raccomando perché noi qua stiamo difendendo il nostro tesorone se li vedi avvicinarsi ma sta visionando anche la barriera cavolo posso smeltarne uno alla volta praticamente di questo passo tu proteggimi da loro eh e ne ho smeltati due ciò ce ne dà tre quindi ne abbiamo abbastanza per fare un piccone la situazione stava con rocce e io lo faccio? ho tempo di farlo? ok lo faccio lo faccio lo faccio ok ho fatto il piccone ma io gli dico forte dobbiamo dargli una bella lezione ma combatteremo se troviamo un crepaccio e ci scendiamo e il profondo crepaccio è abbastanza profondo probabilmente riusciamo a farcela proteggimi perché sto mettendo a sciogliere altro ferro se loro si avvicinano bisogna essere aggressivi ovviamente sto combattendo questo è più debole dai perfetto perfetto siamo in questa casa fantastico piccone e probabilmente ce ne farete comodo anche uno extra perché averne uno in più se il fisico insumo fa sempre bene genios 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 squadra genio genios genios paese Extremamente avevo 20 già dovrebbero iniziare a trovarsi dei diamanti è la nostra unica possibilità anche perché se ci finiscono i piccoli di ferro con quelli di pietra non riusciamo a portarci abbastanza davanti eh quando sto adesso vedo ancora sono due diamanti uh non vediamo pedagli ma non credo è vero guarda che ste per non donerci casca se ci presentiamo lì con i lapisi lapidi tu hai ancora il tuo piccone di ferro che riesci a smeltarlo anche un blocco per volta per fare un altro piccone successiva perché io ho un lignotto, se riesci a smeltarmi altri due in molti ci guadagniamo una speranza in più, perché il mio piccone sta iniziando ad arrivare a corto, vieni corri 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 prima che finiscano i picconi e non trovare la lava che ci uscide, perché la lava ci farebbe perdere un sacco di tempo, non hai abbastanza torce per continuare a illuminare l'unico, vero? No, però speriamo di trovare altro rapporto Speriamo perché al buio non si vede un accidente, Anna La situazione mi ha abbastanza buia qui, ok, continuo a illuminarmi Carbone, Anna Carbone, corri corri, io continuo a scavare, dai, dobbiamo trovare solo un pezzo di diamante ci basta un pezzetto di diamante e poi siamo a cavallo Non, dai, ma lo sai che sono maledetta Non, non maledire, non maledire, Anna, lo so che tu non trovi mai diamanti Ma ricordati che sei in compagnia Perfetto Tu boss Tu sei Super Saiyajji, io sono un giro di giro F***, f*** No, 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 tu l'hai fatto, tua vita è finita oggi Oh, my god Oh, my dog Pugni Xomega Hello Non l'ho mai battuto il boss In realtà l'ho battuto due volte off camera ma Il resto ho perso altre 20 volte Oh, my dog Ma va Sta citando, guardate come cita Sta citando Brutto sporco barone, non si cita nel mio server Della vanilla Non si cita Inizio a citare io Ma Ma No, no, no No, 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 no Comunque vi saluto tutti E quest'oggi ciao Questa è la mia skin Clever B43 No questo è Nick Stefanelli Questo qui con la spada E questo è Ascrano What? 3 3 What? What is that? Comunque Comunque saluto Comunque saluto le ultime persone che hanno commentato i miei video Quindi saluto Quindi saluto Manuel Bruschi e Renemo God Qui è Nick Stefanelli Vi saluto e vi dico Ciao 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 Ciao